Cari amici, bentornati, francamente ancora qui. Abbiamo il piacere, ma anche l'onere di raccontare l'attualità durante questo periodo di coronavirus. Queste trasmissioni sono sicuro passeranno a futura memoria. Voglio fare una piccola parentesi circa questo oggetto del desiderio, che è la mascherina. Questa è una mascherina chirurgica. Sappiamo che le regioni stanno andando purtroppo in ordine sparso, i comuni purtroppo stanno andati in ordine sparso. Bene, io da cittadino chiedo che il Ministero della Salute possa fare chiarezza attraverso un provvedimento, una circolare, capace di indirizzare tutti gli enti locali circa l'uso della mascherina, che è un dispositivo di protezione individuale. Quale mascherina utilizzare? Considerate che queste sono delle monouso, quindi durano 3-4 ore, perché c'è una confusione normativa in quanto i presidenti delle regioni ritengono di essere quasi dei granduchi, i sindaci per avere visibilità, per avere popolarità fanno fughe in avanti e i cittadini brancolano nel buio. L'ha detto il Professor Zagrebelsky, lo ha ripetuto il Professor Cassese. In casi di emergenza sanitaria straordinaria le funzioni devono essere accentrate allo Stato, non abbia paura la politica di prendere questa decisione e di adottare scelte che vanno nella tutela dei cittadini per capire se questi dispositivi sono obbligatori, non sono obbligatori, quando indossarli, quando non indossarli, quali sono, quali non sono, evitiamo di fare confusione così come sta avvenendo. Fatta questa parentesi, l'argomento che andiamo a trattare questa volta riguarda una questione abbastanza scottante, ovvero la questione esami di Stato, la questione anno scolastico e io aggiungo anche anno accademico, perché se c'è un anno scolastico, sebbene in forme diverse c'è anche un anno accademico. Il Ministro Azzolina ha profilato due scenari, uno riguarda l'eventuale ritorno in classe a maggio, attorno alla metà di maggio, che io ritengo essere difficile, l'altro un non ritorno in classe. Per quanto riguarda la prima eventualità, è chiaro che è inutile prenderci in giro, noi siamo ancora nella cosiddetta fase 1, siamo ancora in una situazione in cui deve prevalere il concetto di distanziamento sociale, da qui il fatto che non si esce di casa, viviamo sostanzialmente in un regime di restrizioni domiciliare. Le classi sappiamo bene che sono composte di 25-30 ragazzi e ovviamente la classe è un luogo in cui questi ragazzi stanno lì per tre, quattro, cinque, sei ore e con essi i loro docenti, dove non ci può essere questo concetto di distanziamento sociale, perché ovviamente dovremmo avere delle classi lunghe non so quanti metri, larghe non so quanti metri. Quindi, primo elemento che secondo me non fa pensare a un ritorno in classe. Secondo aspetto, quando si parla di riapertura delle scuole e qualcuno lo fa a cuor leggero, forse non conosce bene la realtà, perché non tutte le scuole sono presenti nelle città in cui risiedono i ragazzi. C'è un pendolarismo scolastico spaventoso la mattina. Molti centri dove insissono tre, quattro, cinque scuole superiori oltre le scuole medie, quotidianamente vengono presi d'assalto da migliaia di studenti che arrivano con autobus, con treni, con mezzi privati. Quindi ovviamente questa cosa, cioè la riapertura delle scuole, andrebbe a incidere anche e soprattutto sulla mobilità, con tutte le conseguenze del caso, perché all'interno di un autobus non si può mantenere il distanziamento sociale, perché all'interno di un treno è la stessa cosa, perché all'interno di una metropolitana idem come sopra. Allora la politica abbia il coraggio di dire salviamo l'anno scolastico, è un anno il 2020 che purtroppo per tutti e per alcuni più che per altri è stato un anno funesto, anno bisesto, anno funesto, mai detto fu più appropriato, e che quindi è un anno che va messo da parte, ma è un anno che da un punto di vista scolastico e accademico secondo me va salvato. Come va salvato? Va salvato attraverso una misura eccezionale. Ho scritto sul mio sito dibattito.info dello scorso 30 marzo un articolo proprio relativo alla eventualità di una non apertura delle scuole, prevedendo un eventuale cosiddetto sei politico, cioè un'ammissione con relativa promozione di tutti i candidati. Ovviamente questa scelta, che è una scelta figlia dell'emergenza e che non è la scelta migliore, io questo lo voglio ribadire, è una scelta dettata da una emergenza, alla luce delle cose che ho detto. E lo dice uno che nella propria carriera scolastica e universitaria non ha mai avuto regalata niente da nessuno. Io ho fatto le scuole elementari dalle battistine, cito alcuni elementi biografici, cioè dalle suore battistine, dove l'elemento, diciamo così, l'aspetto della competitività tra noi scolari era fortissima, perché occorreva dimostrare di essere bravi. Non solo, quando ho frequentato l'università e il liceo prima, si bocciava, si rimandava tre materie, quattro materie, si bocciava. L'università, i ragazzi che andavano a conferire, tornavano a casa piangendo perché non si prendevano gli esami. Quindi io provengo da una escursus personale che è tutto fuorché antimeritocratico. Quindi io sono per la meritocrazia e affinché i risultati vengano conquistati sul campo. Però se questo Stato è uno Stato di emergenza nazionale per tutti, com'è possibile che si possano riaprire le scuole? Luoghi che diventerebbero in un attimo focolai di infezioni, focolai di contagi. Ma occorre avere uno scienziato per capire questo, occorre andare a disturbare i tanti virologi che affollano il panorama televisivo e sono diventate le nuove star della televisione. Occorre disturbare i massimi esperti del Ministero della Salute per capire che una classe composta da 25, 30, 32 ragazzi in un istituto che può arrivare pure a 500, 600, 1000 ragazzi può diventare nel giro di poco con tutte le misure, le cautele, le precauzioni, un luogo di contagio infinito. Allora, visto che la politica deve ascoltare gli scienziati ma non deve agire sotto dettatura, io consiglio di far prevalere la prudenza, salvando l'anno scolastico attraverso un provvedimento emergenziale e avrendo contestualmente lentamente nella cosiddetta fase 2 per far ripartire il Paese. Quindi la politica guardi in avanti programmando la necessità di una riapertura anche delle attività con le precauzioni del caso, salvando l'anno scolastico ma guardando oltre. L'augurio cioè è che la politica si è proprio del suo ruolo ascoltando la comunità scientifica ma agendo in maniera autonoma. Lo voglio dire perché io ho la sensazione che talvolta alcune componenti tendono a prevalere su altre. Quindi le scelte politiche, nonostante la necessità di un ascolto e di una consulenza tecnico-scientifica, devono essere in capo alla politica, al governo che deve procedere con atti precisi, chiari, in modo da indirizzare i cittadini, ma io dico anche le piccole attività, soprattutto quelle delle città, ad una lenta ripresa. Altrimenti, cari amici, la macchina non si rimette più in moto, hai voglia di pensare ai sussidi, agli aiuti, giustamente, ma se non facciamo ripartire in maniera graduale attraverso un cronoprogramma già studiato e io mi auguro già a partire da maggio, magari passato questo periodo di restrizioni domiciliari, non ce ne usciamo più. Quindi l'augurio è di una serena Pasqua, che possa essere ovviamente di riflessione, di domiciliazione forzata, ma se dicono che così ci aiuta questa strada, è utile per uscire dal tunnel, che ben venga. Alla prossima. Alla prossima.